Ci potrebbero essere le ripercussioni oggettive del governo in tutta questa vicenda? È evidente che ci saranno, è evidente che ci potrebbero essere e che a dire la verità ci sarebbero dovute essere pure prima, nel senso che questa è la spia di un clima assolutamente non soltanto teso ma profondamente contorto dove c'è un uso largamente disinvolto delle responsabilità e dei poteri pubblici, ha vantaggio di conflitti del tutto interni ad uno schieramento, conflitti che tra l'altro assolutamente nulla hanno a che vedere con la politica ma pare di avere uno squarcio su un panorama di conflitti di interessi. Allora se ci fosse serietà e presa d'atto, forse non soltanto il ministro Guidi avrebbe dovuto dimettersi ma qui è un intero esecutivo che viene chiaramente messo fortemente in discussione rispetto alla sua credibilità.